Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 Dainy Porta PC impermeabili. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Amazon Basics, zaino per computer. Lo zaino è realizzato per proteggere e trasportare un computer fino a 17 pollici. Con il suo design multitaska può contenere libri, valigette, dispositivi, penne. Su entrambi i lati esterni c'è una tasca in rete, il tutto pronto per adattarsi alle bottiglie d'acqua e a tutti quegli oggetti che richiedono di essere nelle vicinanze. Le procedure interne meticolosamente ammortizzate 30 x 11 x 44 cm e hanno anche uno spazio separato per mantenere laptop e altri cuscinetti per note. Anche una tasca aggiuntiva più piccola per tab. Le spalline imbottite flessibili rendono il trasporto dello zaino molto più confortevole anche quando contiene numerosi dispositivi. Una tasca in rete sulla tracolla sinistra ti consente di avere il telefono o varie altre piccole cose sempre online. Al numero 4, abbiamo Belkin Classic Zaino. Progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di blocco note fino a 17 pollici di dimensione, ha molte aree diverse, che sono impostate in modo intelligente, di conseguenza, si adatta praticamente a qualsiasi cosa in un mezzo organizzato e ragionevole, dalle penne al biglietto da visita, dalla carta di ricarica agli alimentatori, così come, naturalmente, tutti gli accessori. Ha un comodo foro per passare il cavo per cuffie del giocatore MP3, che consente di mantenere il dispositivo privo di rischi e salvaguardato in una tasca unica. Lo zaino ha una pratica borsa staccabile separata per l'alimentatore, il cui design è perfettamente collaborato con quello dello zaino. Al terzo posto, abbiamo la Tucano Lato Backpack. È l'opzione che si offre bene per soddisfare le esigenze di trasporto più diversificate sia degli alunni che degli esperti. Lo zaino è stato creato con un'enorme area ammortizzata per adattarsi a notebook fino a 17 pollici ed è adatto anche per ospitare il MacBook Pro 15 e anche 17 versioni. La tasca interna è sviluppata per adattarsi a tablet e iPad, mentre la tasca anteriore ingrandita è appositamente organizzata per mantenere tutti i tipi di dispositivi. Smartphone e anche iPod, d'altra parte, hanno la propria tasca dedicata, che li protegge meticolosamente durante ogni mossa. Al numero 2, abbiamo il zaino laptop, Evecase. È un vero zaino multifunzionale, che occasionalmente si trasforma in un breve caso di classe. Di classe e allo stesso tempo davvero pratica, questa versione è perfetta per trascinare i computer più tipici da 13,3 a 17,3 pollici. L'area interna imbottita protegge non solo il computer portatile, ma anche l'iPad, il tablet e anche i visitatori che si adattano facilmente a una tasca unica. Lo scomparto anteriore ha tasche per telefoni cellulari, penne, mouse e piccoli dispositivi. Il grommè dell'auricolari ti consente di ascoltare le tue canzoni preferite senza rimuovere il gadget dallo zaino. Resistente alle intemperie, è realizzato in materiale poliestere estremamente resistente e idro-repellente. Infine, il numero uno nella nostra lista, abbiamo il port core che velborsa. Progettato per adattarsi ai dispositivi con uno schermo fino a 17,3 pollici, questo zaino sensibile è realizzato in nylon ed è anche per questo motivo perfettamente impermeabile. Ha una dimensione di 42 x 28 cm e ha innumerevoli aree e anche tasche per l'esatta compagnia di ogni piccola cosa di cui hai bisogno per lavoro o studio. È quindi disposto a invitare tutti i tipi di articoli di cancelleria, oltre a ciò sicuramente a dispositivi intelligenti, biglietto da visita, caricabatterie e singoli prodotti. Nell'area principale, dopo aver messo il notebook e qualsiasi tipo di tablet nelle tasche ideali, c'è ancora molta area per mantenere i dischi rigidi esterni. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.